raga benvenuti nel video sono mezzanotte quindi ed è pure venerdì quindi oggi escono un botto di canzoni sull'album di drav god hello se non è giusto la canzone di galli che sarebbe il remix però non ci perdiamo tanto in chiacchiere andiamo subito al video di oggi il video di oggi è Shadia che da un po' che non lo sentivo sinceramente a me piace ovviamente a me piace tutti 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 basta che non fai schifo a me piace anche se fai schifo a me piace è uscita federica carta la canzone si chiama sì bella così andiamo ascoltando ragazzi io sono già entrato in mood cazzo ci sta ci sta ci sta come canzone è una canzone che come dico sempre ascolterei 3-4 volte al giorno mi piace il testo il testo non è male cioè mi piace mi piace come sta andando la canzone è true story cioè sta raccontando qualcosa di vero raga non che si inventa le cose nelle canzoni questa è una storia vera raga tanta roba questa canzone racconta tanto cioè questo è l'esempio vale ragazza che su instagram sembrano dei dei beyonce oppure dei bella però dal vivo sembrano che ci hanno due cazzo in testa per dire per non fare è un esempio così però per dirvi in questa ha raccontato ha raccontato tanto che cioè io dico voi ragazzi che belle così come siete beh se cessa se cessa se sei bella se bella se sei bella dentro è brutta fuori incredibile quel coglione mi ha proprio fatto dire incredibile comunque discutendo di discutendo di questa canzone no c'è poco da dire che comunque a me è piaciuto sia ritornello di federica c'è anche la strofa di di shada dove comunque parla come parla dell'infanzia parla di lei scuola come le persone lo giudicavano anche so che avete capito ma comunque il mio parere devo dare penso che comunque raccontare la propria esperienza una canzone non è facile non è come prendere il microfono e parlare di fumo parlare di di pasta con tono senza offesa bello figo però raccontare una storia che ti è successo nella vita in una canzone dove ci sono milioni di persone che ti ascoltano comunque le persone ti giudicheranno diverso da come ti giudicavano prima dopo questa dopo questa terapia di umanità umanità io passo chiudo quindi tu iscriviti al canale e tanti video tanti video quindi pompiamo oggi canale iscriviti al canale domani esce come vi avevamo già promesso e il remix di pizza margherita di di bello figo con daniel quindi stettono stettono quindi io passo chiudo iscriviti eh se non ti un culo di notte come sempre mi piace ma mi piace